Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! E quindi mi hanno scelto insomma perché avevo già portato Primitive Society, quindi insomma sono orgogliosissimo di portarvelo, di mostrarvelo. Io ho già chicchiato il tutorial, è un mix perché ha la possibilità di costruire edifici ma anche una sorta di movimento alla Vampire Survivor. Comunque potrebbe durare circa la demo 90 minuti, un'ora e mezza. La iniziamo. Non vi faccio vedere il tutorial perché l'ho già fatto. Noi avremo modo di andare a avere più mezzi, 3 in totale. In questo caso abbiamo la moto, poi vi farò vedere anche le altre se ci sarà occasione. Eccole qua infatti. Possiamo scegliere di partire con la moto, con l'elicottero o con l'auto. Il gioco è tradotto in italiano, mi è stato anche comunicato, il gioco è già pronto in italiano e l'uscita diciamo in Early Access sarà in autunno, questo posso già dirvelo. Ogni mezzo ha la sua abilità, in questo caso ha l'abilità del veicolo, in questo caso di sparare, trasforma il mitagliatrice in un lanciafiamme, perché lui spara in automatico. In questo caso invece abbiamo l'elicottero che lancia i missili. Inoltre c'è l'abilità speciale. No, facciamo questo dai, così almeno la moto mi fa molto Days Gone, ma non è il caso. Iniziamo questo livello qui e praticamente quello che dobbiamo fare è premendo Tab, noi avviamo la modalità Tower Defense. Quindi noi dobbiamo organizzarci, studiare un pochino il territorio e vedere, sappiamo che gli zombie arriveranno da qui e quindi avremo una possibilità sola, credo, perché mi pare di averla vista in alto, di costruire. Abbiamo la possibilità di muoverci lentamente oppure muoverci più rapidamente, perché premendo lo Shift si attiva il Turbo, il Turbo però diminuisce la durability del nostro edificio. Andando qua abbiamo un modo di costruire un avamposto. Tenendo premuto, vedete, lui costruisce. Questa è la base. La base poi ci consente di creare altre cose, quindi dobbiamo studiare un po' il territorio e vedere. Perché vedete che abbiamo dei punti in alto a destra, 150, qui vedete 350, cioè è il costo che ci chiede. Allora io potrei fare 250, sparo automaticamente no, vorrei fare qualcosa che costa poco. 250, mannaggia, costano tutte tantissimo. 250, vediamo se c'è qualcosa che costa meno. 400, 150, eh, grazie al cavolo sono tutte indietro. Vabbè, allora vi faccio vedere come funzionerà qua. Allora gli zombie arriveranno probabilmente da queste parti qua, quindi noi costruiamo questo edificio qua. Per niente questa è una vedetta, ma in realtà non è finita qui perché abbiamo modo poi di costruire, anche scegliere di cosa costruire in base a... Eh, niente, eh, non abbiamo, non abbiamo, vabbè. Premo Tab e si comincia. Allora, arriva la notte e gli zombie arrivano. Noi in questo caso ci difendiamo, vedete che loro attaccano. Attacchiamo anche noi e premendo Q trasformiamo il nostro mitagliatore in un lanciafiamme. E vedete, e ora stiamo... Ok, abbiamo fatto 200 ma non basta ancora. Quindi dobbiamo continuare. Facciamo un'altra ondata. Ci sono 13 ondate, quindi dobbiamo... Ci sono sia zombie che umani. Eh, però attacca. Dobbiamo aspettare che si ricarichi la nostra... Eh, eh, appunto. Ha demolito la cosa, quindi bisogna... Li tiro su di me in modo da non... Li danneggiare eccessivamente la base. Ok, no, non... Ok, si è rimessa in piedi. E abbiamo anche 300. Adesso. Allora, hanno sempre attaccato da queste parti qui. Eh, io non so. La facciamo anche qui. Ok, perché arrivano anche da lì i zombie. Eh... La quella è la e non l'ho mai usata. Vabbè, proviamo, dai. Eh, via. Vediamo se posso attaccarli. Ok, stanno arrivando. Sono tutt'altri i nemici. Arrivano anche da là. Uso la E. Ah, no, attaccano qua. Mannaggia, dovevo farlo diversamente. Vedete che... Cerco di portarli via in modo da... Fagli fare danno. Perché loro, di base, adesso loro vedono già... La mia base. Ma in realtà... Ok. Mi seguono. Un po' la Vampire Survivor. Quindi vedete che li attira verso di me. L'hanno abbattuto anche quella stazioncina. Adesso andiamo a sistemarli. Ok. Perfetto. Abbiamo 800 adesso. Con 800 io spero di riuscire a fare qualcosa di interessante. 250. Eh, no. 400. Voglio vedere che cosa si può fare qua con 400. Ok, vedete qua si può scegliere. Abbiamo i cacciatori. Unità aggressive e veloci infliggono danni bonus contro le unità che possiedono poca salute. Ma non sono un'ottima scelta contro le unità a distanza. I banditi usano mazze e infliggono danno bonus contro gli zombie. I distruttori hanno enormi matteli. Dai, facciamo questo. E loro stanno lì. Ma non è finita qui perché la cosa interessante è che io li posso selezionare e muovere. La cosa scomoda è che li muovo, li seleziono col tasso sinistro, li muovo col sinistro e col destro li deseleziono. Sarebbe stato meglio il contrario ma questo magari lo segnalerò. Eh, facciamo anche questo. E niente, andiamo con un'altra ondata. Cazzarola, l'ha già demolita? Non stiamo andando proprio benissimo, mi aspettavo qualcosa di meglio. Ok, niente. Abbiamo fatto altri soldi, poca roba. Facciamo un edificio anche qui a questo punto. 400, no, dobbiamo aspettare il prossimo. Aspettare il prossimo, andiamo dai. Non è detto che ce la facciamo ma proviamo. Stanno arrivando anche delle ruote dentate adesso, non ho ben capito che cosa è. Comunque facciamo un po' di danno anche noi. Eh, poi ci abbattono e... Non è che è persa la partita ma ci vuole del tempo per farci rianimare. Intanto questi vanno lì, ok. Eh, ancora. Ma già sono un po' scarso. Ok, dai. Poi io, a dire la verità, non sono un fan dei Tower Defense, ma quando magari è interessante, tipo Diplomacy is not an ocean, non mi è dispiaciuto per nulla. Per quanto ho detto, il genere non è il mio, ma avevo una bella conformazione del mondo, il fatto di sfruttare i canyon, le montagne, mi è piaciuto veramente tanto. Quindi, eh, niente, qua la stiamo rischiando, la stiamo rischiando tanto. Io non so poi se effettivamente perdo dei crediti se mi abbattono gli edifici, ma va bene. Intanto facciamo anche questo, abbiamo 1050, facciamo anche questa. E qui, ecco, qua non si scherza. Questa è una cosa che mi piace tantissimo quando andando avanti ci si evolve e ci sono edifici più belli. I tiratori scelti, decisamente, decisamente. Eh, abbiamo 650 ancora, quindi facciamo un po' di roba. Questo non so cosa sia. Non so cosa serva. Ma continuiamo perché si fa interessante. Non so poi se ci sono altre location più avanti, ma sicuramente i tiratori scelti li metto qui. I vicini, via. Eh, li hanno anche loro però i tiratori scelti. Vieni, vieni. È un po' limitata questa cosa qui, comunque. Con lo shifter mi do un po' di mannaggia. I tiratori scelti li hanno già abbattuti. Non ho ancora capito come fargli mirare bene. Qui. Livello fallito. Ci sono veramente scarsissimo. Tra l'altro, adesso vi faccio vedere. Vedete, qua abbiamo l'inizio, poi c'è una nuova speranza e man mano si sblocca questa prima parte della demo. Vi faccio vedere anche il tutorial, giusto per sicurezza, perché poi mi sembra anche piuttosto lunga come partita e dovrei organizzarmi meglio. E tra l'inizio abbiamo questa moto qui, che forse sarebbe stata il mezzo migliore. Praticamente ora dobbiamo costruire un edificio. Adesso io vado a creare l'edificio dei cacciatori. E di qua, praticamente vedete che mi evolve la cosa. Fucile a pompa, pistole, balestra e pistole. E in questo caso io premo tab e vado ad iniziare l'avventura. Ah sì, qua mi sta spiegando quello che vi dicevo prima. E li muoviamo e li annulliamo. Li muoviamo qua. Anche solo due, così. Tab e inizia. L'abilità è diversa per la moto perché abbiamo... Noi spariamo così e premendo questo vedete che li brucio. L'abilità con la E invece non c'è. Non mi pare di averla visto. Comunque anche qui non è proprio così... È quasi più facile con questo mezzo piuttosto che la camionetta che ho scelto prima. Vedete? È già completato. Per dare un'occhiata solo adesso se c'è modo di giocarlo più facilmente con... Proviamo l'elicottero così li proviamo tutti. Vediamo come funziona. Allora, poi costruiamo la base. 3,50 Eh, però... 400 Vediamo. Sì, lo facciamo rapidamente. Qua ci mostra il raggio d'azione della zona. Ok, via. Vediamo come funziona. Con la Q e con la E. Q missili. E la E c'è il classico attacco aereo. Ma sembra un pochino meglio di prima, eh. Via di nuovo. Sembra... Sembra un po' più facile. Più che altro perché spara in automatico e io poi shifto i missili. Sì, poi vabbè... Spara a chi vuole lui. Però intanto lì, lì rallento. Eccoli lì. Infatti quelli stanno già andando là. Missili. Sono veramente scarsissimo io però in questi giochi, eh. Dai! Minchia per il pelo, per un pelo! Eh, questo è anche molto scarso io. Non c'è un po' cosa fare, ragazzi. Vorrei... 400 Vediamo. Ah no, non è consecutivo alla costruzione degli altri, ma è proprio in base allo spot che ci fa fare uno piuttosto che l'altro. Facciamo il brawler. E dobbiamo rallentarli qua davanti, quindi prendiamo magari uno, mettiamo qua, uno lo mettiamo qua, e uno lo mettiamo qua. Così ci difendiamo. Via. No, è bello il fatto che bisogna proprio gestire la strategia. Cioè, praticamente portarli in un punto preciso, deviarli dal bersaglio, ingannarli se vogliamo. Eh, quindi è molto strategico come cosa. Mi è rimasto solo un tizio che attacca adesso. Va, 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 vabbè. Se io facessi... Eh, ho sbagliato. Non ce ne sono ancora. Eh, questi mi spianano. Vedete che tempo regge un po'. E poi i missili. E poi... Eh, continuo a sbagliare. Ok. A posto. Abbiamo preso un po' di soldi ancora, ma non mi bastano per costruire anche questo. Credo. E bisogna prendere la... Loggia dei guerrieri. No, c'è anche scritto che cosa fa, quindi va bene. Questo cos'è? L'accampamento normale? L'accampamento dei perdoni. Generale reddito durante le incursioni notturne. Ok, c'è anche scritto. Quindi ci dà più soldi per la volta dopo. Che potrebbe non essere male. Tuttavia non siamo messi proprio così bene da... Magari... Ok, facciamo questo. Via. Facciamo ancora una volta. Facciamo ancora una. Perché attaccano anche loro, non scherzano. Però almeno li rallentiamo un po'. Mi hanno già abbattuto. Mi hanno già abbattuto. Hanno già abbattuto una torretta. Adesso a breve riparto anch'io. Vediamo se riesco a... Ok, stavolta sì, giusto. Ma non basterà perché sono già morti. Ok, adesso intervengono loro. Io adesso vedo se c'è il fuoco amico facendo... Eh, ciao. Sono veramente scarso. Ok. No, ce l'ho fatta. Ce l'abbiamo fatta. Adesso possiamo iniziare a investire magari in più torretti. O nell'accampamento. Insomma, ragazzi. Questo è il Last Outpost. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Io ringrazio ancora gli sviluppatori per l'opportunità ricevuta... Appunto di portare in anteprima questa demo. Sappiate che la potrete trovare dal 29 di agosto fino al... 29 di luglio fino al 5 agosto. Poi non sarà più disponibile. Durante il festival dei Tower Defense su Steam. Fatemi sapere, ragazzi, cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Alla prossima e... Ciao ciao!